Buongiorno, buongiorno dal dottore Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo. Oggi rispondo ad un signore di Londra che mi fa questa domanda, dottore come faccio per far aumentare l'autostima a mia moglie? Perché è veramente una cosa insopportabile, ha la sua autostima alla pianta dei piedi. Non ce la faccio più, litighiamo spesso e volentieri perché è piena di sensi di colpa, si sminuisce sempre, si butta a terra sempre. Ho provato a portarla da professionisti ma non ci sono riuscito e volevo che lei, mia moglie, acquisisse più autostima. Cosa posso fare? Io gli ho consigliato e consiglio anche a te di scaricarti un Audi MP3 DCS dal titolo ego entusiasmo oppure autostima al top che trovi sul sito dell'associazione Ipnologi Associati, lo Seijos Beverly Hills a cui ho ceduto tutti i miei diritti e meravigliarti del potere della tua mente o della mente della tua cara. Perché se segui l'istruzione alla lettera molto facile, la prova di un nonno, la prova di un idiota, la prova di un pigro, tu ti meraviglierai di ciò che la mente tua o la mente della tua cara o del tuo caro possono realizzare. Ho aiutato centinaia e centinaia di persone in tutto il mondo, soprattutto su Skype, online dal 2008 ad oggi, ma ti posso garantire che molte persone anche con un solo Audi MP3 DCS hanno risolto i loro problemi esistenziali o fisici. Non credere a nessuna parola del sottoscritto, devi soltanto provare, iniziare, far parlare i fatti e non i bla bla, perché il mondo è pieno di bla bla, di bavarder, dicono in francese, in Francia, e meravigliarti del potere mentale. Sappi che l'autostima proviene dal tuo passato, esiste anche un Audi MP3 DCS al titolo hanno passato negativo dai tuoi genitori vittime di altre vittime che ti hanno vilipeso, disprezzato, accusato, fatto sentire in colpa, messo in punizione, chi più ne ha più ne mette, è sminuito e se tu non fai cambiare canale al tuo subcosciente tutto sarà inutile, senza se e senza ma, soltanto a te la scelta anche per tua moglie o il tuo caro che magari non ti segue in questo ragionamento. Se segui le istruzioni molto facili, la prova di un nonno, la prova di un pigro, la prova di un idiota, tu ti meraviglierai del miracolo che il subcosciente dell'essere umano tuo o chi per te è sempre a fin di bene può fare per portarti nell'olimpo della stima, dell'amor proprio, dell'amarsi, dell'accettarsi, del sentirsi quell'energia potente che ti fa volare a dir poco e camminare sulle acque. Non credere al sottoscritto devi provare, ma ricordati che la mente può fare e può realizzare il miracolo della tua stessa mente. Aspetto le tue domande, anche le più banali e più stupide, ti risponderò gratis, magari qualche spunto o qualche tema che ti interessa, non importa se è banale, stupido o difficile, ti risponderò gratis, compatibilmente ai miei tempi e miei impegni. Visita gentilmente il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzioni di cesso del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con amici e parenti perché può essere quel quid o quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi gentilmente anche sugli altri social Instagram e Twitter benessere ipnosi, soluzioni di cesso del dottor Claudio Saracino. Un bacio e un abbraccio amico mio, amica mia e alla prossima dal dottor Claudio Saracino. Alla tua, ciao.